Sarà la sua prima fiera di Sant'Antonino da quando indossa la fascia di sindaco. Il primo cittadino, Patrizia Barbieri, inaugurerà domani mattina la fiera del Santo Patrono della città. Nel frattempo, da oggi sono scattate le prime limitazioni al traffico per consentire l'allestimento in sicurezza della fiera. Sono 333 i banchi previsti per questa edizione e proprio in queste ore i primi hanno già raggiunto Piacenza. Il perno sarà il pubblico passeggio con 189 posteggi. Il serpentone di Bancarelle poi si snoderà a partire da Viale Palmerio proseguendo poi in Viale Beverora, Piazzale Genova, Corso Vittorio Emanuele, il Faxal, Via Giordani, Via Alberici, Via Cavacciuti fino a Piazzale Libertà. La partenza delle vendite sarà alle 7. Sforzo massiccio, quello messo in campo dal Comune nonostante l'inchiesta della magistratura sui furbetti del cartellino che nei giorni scorsi ha portato a svuotare alcuni uffici. Qui c'è una realtà che ha fatto sì che ci fosse insomma qualche sorpresa iniziale non certo gradevole però c'è il convincimento voglio dire che tanta gente qui sta lavorando e sta lavorando bene dobbiamo lavorare insieme per far ripartire la macchina comunale chi ovviamente ha sbagliato deve pagare perché questo mi sembra giusto anche nei confronti di chi lavora bene oltre che nei confronti dei cittadini e comunque domani abbiamo garantito tutto perché Sant'Antonino si svolga regolarmente. Sul sito liberta.it potete trovare tutte le informazioni legate alle limitazioni al traffico e i servizi previsti per la fiera.